Oggi in giunta la delibera sui ragazzi della panchina è stata accolta, possiamo dire che è finito questo percorso sulla sistemazione e locazione dei ragazzi della panchina dopo che erano stati sfrattati da Viale Grigoletti, la loro sede. I ragazzi della panchina verranno accolti temporaneamente nel ex asilo di via Selvatico, è stato fatto un accordo tra il comune e i ragazzi della panchina, è stato sopportato anche da una delibera dell'azienda sanitaria 6 che prevede la costruzione della sede definitiva per i ragazzi della panchina in via San Quirino, laterale via Gramsci. Quella sarà la sede definitiva, nel frattempo resteranno nella sede dell'asilo di via Selvatico. Il processo si è concluso favorevolmente, abbiamo potuto ottenere un alloggio per i ragazzi prima del freddo e dell'inverno, adesso partiranno le operazioni di sistemazione che saranno date in organizzazione all'associazione stessa. Grazie. Grazie. Grazie.